Chiedo aiuto allo Stato italiano, stiamo cercando in tutti i modi di tornare a casa, siamo al viaggio di nozze all'Andilana Resort a Nozibì e ho mia figlia Aurora che sta male, ha avuto gastroenterite, spasmi muscolari e è completamente disidratata, l'abbiamo portata in visita qui al medico del Resort e l'abbiamo portata due volte all'ospedale di Nozibì. L'abbiamo portata all'ospedale Santa Maria delle Grazie ma non sono stata in grado di prendere un accesso venoso nonostante due tentativi e oltretutto in questo Stato mi hanno chiesto se volessi fare il Valium e io assolutamente ho rifiutato. Sembra una situazione surreale ma è tutta realtà e abbiamo chiamato e stiamo chiamando la questura, anzi i miei genitori e i genitori di Luca sono andati in questura, siamo andati all'ambasciata, abbiamo chiamato l'ambasciata, abbiamo chiamato il Consolato, abbiamo chiamato, chiediamo aiuto, vogliamo che ci vengano a prendere con un aereo qualcuno, con un aereo privato, il pac a pagamento, in modo da poter portare Aurora a prestare delle cure perché in queste condizioni a mercoledì che è il giorno del volo non riusciamo ad arrivarci. Mai avrei pensato di fare questo video ma vi chiedo cortesemente di condividerlo in modo che raggiunga più canali possibili e qualcuno ci aiuti.